Il presidente americano Joe Biden ha siglato un ordine esecutivo volto a proteggere l'accesso all'aborto e la contraccezione dopo che la Corte Suprema, il 24 giugno 2022, ha annullato la sentenza Roe Wade che proteggeva il diritto all'aborto a livello federale. Per ristabilire il diritto all'aborto, una legge al Congresso sarebbe la via più rapida. Il presidente ha esortato gli americani a recarsi alle urne a novembre per eleggere due senatori pro-choice e così codificare Roe come legge federale. Sebbene l'ordine non ripristinerà l'accesso all'aborto negli stati che lo hanno già vietato o ne hanno limitato la procedura, potrebbe aiutare le persone a capire quali diritti hanno e come poter accedere alla pratica negli stati che lo consentono. La decisione della Corte Suprema, ha ribadito Biden, è stata estrema e totalmente sbagliata.